Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video siamo su Left 4 Dead 2 2, 2, 2, 2 Comprato ovviamente Primo gioco che compro, no, in realtà no No, in realtà è c'era l'offerta su Steam che lo regalavano a Natale No, no, Santo Stefano Era Santo Stefano No, no, Santo Stefano Santo Stefano, Gigi Sì, che ero stato via Tu mi dicevi al pomeriggio, hai detto Ah, sì, sì, però Ok, allora stiamo sulla mappa di destra La strada, no? Siamo paragoni Eh, una difficoltà normale, perché noi siamo scarsi Infatti abbiamo già fatto qualche partita così per conto il nostro Qualche ne abbiamo fatte 3-4 Eh, va bene, qualche Quindi possiamo iniziare, vai Va, vai Morite Cioè mi hai chiuso dentro Davvero Ma non ti vergogno Mi sto morendo Ok, ragazzi, allora fate che io sono strascato Io no Sì, te pello Mi butto in mezzo, uccido tutti Poi mi rimane uno schifo di vita Eh, mi hanno secondato Mi hanno secondato Mi sono torrento 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 ma non è circondato e io devo già usare il medico non lo spreco allora praticamente c'era la witcher e c'erano vento ordi cittadino tira la bomba tira la bomba la witcher viene da me e mi uccide terrenalina mi fa morire aspetta aspetta che c'è il camion io mi prendo la ventina dove sei? si attento dietro bartolini eh da dove arrivano tanti zombie eh da dove arrivano tanti zombie allora spesso ah la cosa non ci sono zombie no no che abbiamo ucciso vieni qua i quali quasi come fare dove dove santo dio quanti sono? non lo so non lo so mi ha fatto per per tempo e sto morendo no è la porta si ok ragazzi i partiti di zombie durano tanto quindi non so come faremo non lo so ehm ve ne andate ehm ehm io asco già no ah mi sta nuvolando grazie c'è la rusher che mi sta curando c'è la no come debbè devi ci butto no ma non c'è nient'altro non c'è in caso diamo al p inutile diamo diamo damook amos tuttudo 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 quella roba ma siamo diventati un ricacciatore c'è un coso lungo ok va per sapere io lancio una ok lo faccio che lo zombie affronte sulle scale guarda che bello a costituzione proprio ah no no 4 4 4 ok mi ha detto gianniere quando è tornata la bombola la bombola la bombola la mia la voglio io intanto quelli ha attirato lì insieme vabbè prima di trovare quella ufficio di qua cosa c'è ciao amici miei chi è quello che li ha sparato senti cucci continua a guardare le uicce e farti uccidere si prima c'era una uicce proprio lui continua a guardarla la colpita oddio spittler aiuto aiuto sono nell'angolino guarda stanno entrando un po' di un po' di gente quello che poi saltano e si fermano in l'angolo dopo si girano entra aia ma perché quello giallo qua mi sembra tanto capite quelli che vedi negli stadi che fanno rispe capite di quelli che vedi negli stadi che fanno rispe per il so da tanto che non può dirmi non lo seguo un po' di un po' di spi gioco ok ci diamo sui guarda c'è il cattivo di un quarto il tuo libro questo c'è 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 Eh, vabbè, a parte che te vedi gli zombie dentro il muro, però non ci sono. Ti esploso la testa, perfetto. Ma sei scemo! Io tutto tranquillo, vado. No, ma te l'hai visto? Cosa? È caduto un boomer dal cielo, è esploso. Davvero? Da solo, là in fondo. Ahia. È morto. Ok, qua cosa c'è? Eh... Non c'è il mondo. Allora, qui la cosa secondo me è preoccupante. Io lancierei una di quelle che attira i cosi. Che dici? Spera, spera, spero, ti faccio salterinaia io. Ok, sposto. Gigi. Ma, ma quella che mi ha detto, va bene, va bene, va bene, attira e basso. Ecco. Ah, guarda, stai infettando. Uccidi, uccidi, uccidi. Guarda, nella mia mente, che sta infinando tutto l'ambiente. Sì, perché? Mi vergogna. Sì. Tanto il WWF non esisterà più. Tu poi, io sto affettando il mago. Ehm... Oddio, quanti sono! Sto affettando un bordello, quanta cassa di gente. Aia! Eccasso, se questa partita la finciamo, guardate. È la prima che mi fai. Sì. Ok, no, no. Qua c'era. Il lancio granate, il lancio granate, il lancio granate. No, no. Ok, stai spettando, era molto sega. Vieni qua, tu. Ti taglio, affettine. No, no. Aspetta male. Lo stai... Ma perché è in quel nome? Cioè, non ti vergogni? No, non l'ho vista. E ora? E ora continui. Non ne iniziamo un'altra. Eh, sì, tagliamo. Sei morto, fai schifo, ma... Ok. Ok, è morta. Ok. Eh, si fa così. Richiede una votazione. Bravi alla campagna. Caricamento in corso, un 1. In corso. Dai, ma come fai a morire con... Eh, non l'ho vista. Perché stavo sparando a cazzo, no? Poi però ho visto una... Tutta dormisciuta, the fuck. Comunque, sì, sono oggetti che spawnano a random. Davanti all'albero era il lancio granate. No, stavolta c'era un motosega. E l'altra volta non c'era un cazzo, giusto. No, Gigi. Ma... Quindi per giocare con me niente. Che cazzo hai fatto? Oh, questo è il primo episodio. Ah, però, che è un uomo... Ah, ma tutta la campagna. Hai fatto la campagna? Sì. Cioè, riavvia la campagna e io penso che fossero la partita di... No! C'è un'ascia qua, non per dire. Sì, doppie pistole. Eh, abbiamo solo le doppie pistole. Già. Ok, ragazzi, questo sarà un episodio. Che cosa sta? Perché stai imparando con me? Perché parla così? Eh, in qualche modo assurdo, c'è una voce, occhi. Stai dicendo, va bene, andiamo avanti. No, io stavo cercando di uccidere un'aquila, per cui l'ho smesso. No, però l'ospedale non mi piace per niente. Sto qui è un ospedale. Eh... Tu non la sarò d'attesa. Dio, che persona triste che è. Sì. Ah, no, è un hotel. Mamma mia, non ti vergogni. Strade... Ok. Eh, se starti. Io ho già startato. No, metti... schiaccia il... Vota per iniziare a... Non posso! Ok, si inizia la partita così. Se faccio 60 FPS, che cosa ho più? Io non lo so. Non ci ho perso... Posti che per me... Qua, iniziamo bene. Cioè, te mori con tu, manzi. Ma cosa? Non ho vista. Ma poi, scusa, di solito è più avanti la Witch. Ma no, spona a caso. Eh... Te l'ho detto, dove c'era il tante, prima è sponata la Witch, quindi... Sponano un po' caso. Eh, poi prima ci sono sponati tre Charger di fila così. Ci sono. Poi io muoio sempre, o per colpa sua? Eh. O per colpa del Witch. Ok. Vai. Medikit Ammere. Poi pistola, mi prendo un pompa. Ok, sei pronto? Eh, quasi. Ok, tutto al massimo. Vai, andiamo. Andiamo. Vai, perché questo... Vai te, io sono sempre... No, perché? Vai. Perché mi chiudi la porta? Vabbè, io voglio... Fatti insieme per sopravvivere. Eh, io non mi ne vado in giro. Ma guarda, lui corre così a casa, va. Eh, un pompa. Eh, che significa? Ma appunto che hai il pompa. Una pompa. Certo. No. Adia, stai morendo. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Grazie a tutti